Lascio per evitare strumentalizzazioni e nell'interesse primario dell'azienda. Si riassumono in questa frase le motivazioni che hanno spinto il presidente della TUA, Luciano D'Amico, a rassegnare le dimissioni dall'incarico al vertice dell'Azienda Unica Regionale del Trasporto Pubblico. Dimissioni che arrivano al culmine di mesi di polemiche relativamente all'incompatibilità del ruolo di D'Amico all'interno di TUA con quello al vertice dell'Università di Teramo. Luciano D'Amico era prodato alla guida del Consiglio di Amministrazione di ARPA nell'agosto del 2014 a poche settimane dall'insediamento dell'Aggiunta d'Alfonso prendendo il posto dell'Avvocato Massimo Cirulli. A lui è stato affidato il compito di guidare la fusione di ARPA-GTM e Sangritana all'interno della società unica di cui è rimasto al vertice fino ad oggi. E sempre a D'Amico, la Regione ha affidato la stipula del nuovo contratto di lavoro con i 1590 dipendenti dell'azienda e di avviare il piano di razionalizzazione dei costi e delle corse. Filt CGL, Filt CISL, Wiltrasporti e Faisa CISAL sottolineano come in questa vicenda siano prevalse le logiche della politica ricordando lo stilicidio di attacchi e di denunce inoltrate alla magistratura, agli organi di controllo contabile, all'autorità anticorruzione che pur non avendo fatto emergere fatti o situazioni penalmente rilevanti o legati all'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, hanno tuttavia indotto il presidente D'Amico a fare un passo indietro. Dire grazie al rettore è troppo poco, scrive il consigliere regionale delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro che ricorda come il presidente della tua abbia lavorato a titolo totalmente gratuito. Non appena le condizioni lo consentiranno, conclude D'Alessandro, non esiteremo un istante a chiedere a Luciano D'Amico di tornare a dare una mano all'Abruzzo. Sin dal momento della nomina si sono state molte verifiche sulla presunta incompatibilità del mio incarico quale presidente di tua con quello di professore a tempo pieno dell'Università degli Studi di Telamo. Sono tutte verifiche che si sono concluse positivamente, da ultima la verifica dell'autorità nazionale anticorruzione che ha demandato per eventuali profili di incompatibilità all'Unisterio dell'Università, ritenendo per quanto di propria competenza l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Ho atteso il pronunciamento del Ministero e della mia Università che hanno confermato la correttezza del mio operato. E tuttavia, sia perché i principali obiettivi sono stati raggiunti, sia perché la mia intenzione è evitare qualsiasi possibile strumentalizzazione che può nuocere in qualche modo all'azienda, ho preferito rassegnare le mie dimissioni nella certezza di aver adempiuto al mandato ricevuto e di aver, con il concorso di tutti i lavoratori di tua, realizzato un progetto assai rilevante per la nostra comunità.